In A1 in direzione Roma ci sono code in uscita a Firenze Sud, in A11 in direzione Firenze code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1, code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla Fipili ci sono code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento per la A1, in A12 lavori in direzione Genova tra la barriera di Rosignano e Pisa Centro, sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!